Guardi, ricevo polemiche e sollecitazioni a polemizzare da tempo, in modo diretto e personale. Io non pongo questioni personali, ho solamente posto questioni politiche. Il Centrodestra e Forza Italia, secondo il mio punto di vista, hanno sbagliato totalmente linea politica in questo ultimo anno e mezzo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ho solamente posto questioni collegate al cambio di linea politica e alla esigenza di avere delle regole precise che potessero guardare in prospettiva anche ad una organizzazione adeguata del Centrodestra. Queste sono le questioni che io pongo, quindi non ho da replicare né da continuare con una inutile rissa che non serve a nessuno.